Patrick Swayze era un attore, ballerino e cantante americano. È nato il 18 agosto 1952 a Houston, in Texas, ed è cresciuto in una famiglia di artisti. Sua madre era una coreografa e suo padre era un ballerino e attore. Swayze ha iniziato la sua carriera nel settore dello spettacolo come ballerino e coreografo, esibendosi in musical e produzioni di danza. Nel 1980, è passato alla recitazione e ha ottenuto un ampio riconoscimento per i suoi ruoli in diversi film popolari, tra cui in Dirty Dancing, Ghost Name Point Break. La performance di Swayze in Dirty Dancing come Johnny Castle, un istruttore di danza, è stata particolarmente acclamata e ha contribuito a stabilirlo come uomo di spicco a Hollywood. Anche l'iconica colonna sonora e la coreografia del film hanno contribuito al suo successo. Oltre alla sua carriera di attore, Swayze era anche un cantante e cantautore di talento. Ha pubblicato diversi album e singoli nel corso della sua carriera, tra cui la canzone di successo She's Like the Wind, che è stata inserita nella colonna sonora di Dirty Dancing. Swayze è stato sposato con Lisa Niemi, ballerina e attrice, per oltre 30 anni fino alla sua morte nel 2009. Gli è stato diagnosticato un cancro al pancreas all'inizio del 2008 e si è sottoposto a trattamento mentre continuava a lavorare su vari progetti. Swayze è morto il 14 settembre 2009, all'età di 57 anni. La sua eredità come artista di talento e attore amato continua a vivere attraverso il suo lavoro e la sua influenza sull'industria dell'intrattenimento. È ricordato dai fan e dai colleghi come un artista di talento e una persona gentile e generosa.